Ragazzi, bisogna rimettersi in marcia subito, potrebbero tornare in forze. E dove andiamo? È la stessa storia da tutte le parti. Potremmo fare un tentativo. A 30 miglia da qui c'è un forte suddista. Che ne pensate? I soldati americani non ci getteranno certo le braccia al collo per darci il benvenuto. Però nemmeno per strozzarci, e tantomeno per scotennarci. Coraggio, ragazzi, in sella. In sella, svetti. Morias, vieni. G, guru, trovatemi un carro che stia ancora in piedi. G, guru, trovatemi un carro che stia ancora in piedi.